ciao ragazzi sono davvero salvatorex1 ed oggi giocheremo Akinator è un gioco dove c'è questo genere del cavolo che cerca di dominare tutto quello che pensi no? e allora giochiamo e vediamo un personaggio che vi posso... prendiamo del Piero va si ragazzi no si 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 no no si si aveva no no si no si che ha azzeccato in 5 secondi ha azzeccato sto pregno eh si è contenta ha ragione hai ragione il contatto page guarda la cosa è sopra guarda e allora facciamo un youtuber fa vj va no 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 si ha fatto sei contento sei contento sei contento facciamo youtuber americano va facciamo youtuber americano va facciamo eeeh anthony di smosh ok no 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 ma che bello ha azzeccato in 5 secondi ah c'è William stavolta no diciamo di no e mettiamo William stavolta va no si è maschio si no si no si no lavora da solo no quelli neri no non l'ho mai dichiarato su non lo so non lo so non lo so si no non lo so allora no io non lo so no 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 e te che si moce ho capito allora io sei contento? è contento sono cent'anni è contento alguma siamo altre persone siamo napolitano ma sono vedi! siamo 80 anni no si no Credo di sì 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 No Eh Sì davvero È morto Sì È campano Sì E ci ha zecchato Ma sa tutto quanto Sto fregno Facciamo un Pokémon Aggron 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 No E le dà i figli di Pokémon Può essere tutti e due No No Aggron sì 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 No Sì No il Pikachu Sì Ah cugini Qualc'è cazzo faccio a sapere Aggron No 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 Eh Sì Sì No No Ma se ti dica che no No non è lui Sì È Aggron Dio Sì È grigio È gay No Sì È grosso Sì Sì No No E ci ha seccato Sto fregno Ah 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 Che sei un coglione È un coglione Sì No 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 Sì Ok Ma la coda è la punta Raidon Ma no È tiranitar Ma c'è che Ah sto cazzo L'ho fottuto Ho il culato Kirito Ok ragazzi Questo è tutto Ci vediamo la prossima volta Ciao